Siamo a sabato 11 maggio, secondo giorno di fiera qui a Londra, Place in the Sun, iniziativa di FIAP nazionale. Abbiamo il piacere di avere qui Sandro Marcucci di Siena, che saluto. Buongiorno Sandro. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, raccontaci un po' quali sono i tuoi feeling, le tue impressioni di questa fiera a Place in the Sun. Allora, il secondo giorno di questa fiera, è la prima volta che partecipo, quindi ho un'esperienza nuova. Di sicuro l'impressione è molto positiva. Ci sono tantissime agenzie, tanti territori rappresentati e penso che è un ottimo canale per trovare nuovi clienti o tante nuove collaborazioni con l'agenzia a livello internazionale. E soprattutto per promuovere il territorio di quale ho trovato, che è il territorio del Montaviato, per la parte ufficiale, non al limite, ma assieme. Ok, bene, Sandro ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a te per... Grazie a voi, buon lavoro.